Sì, volevo, sì, meno male, ti ero contento, volevo, ti ero contento, io non ci voglio credere, ci sentiamo. In lacrime, felice come un bambino, in una nota vocale su WhatsApp, inviata a un amico in Argentina, subito dopo l'ufficialità del tesseramento con l'Avellino. Per Luis Alfageme e la dirigenza erpina, il via libera di ieri da parte del TFN ha rappresentato la fine di un incubo e l'attenzione registrata nelle scorse settimane ha lasciato spazio ai sorrisi, tra i quali quelli del presidente Maurillo e del direttore sportivo Musa, che oggi ha compiuto 29 anni. Lavoro differenziato per Patrignani e Rizzo, acciaccati, tutti a disposizione di Giovanni Bucaro, compreso lui, l'attaccante, che oggi non sarebbe sceso in campo in caso di verdetto negativo, con Paganese, Cavese e non per ultima Juve Stabbia, pronte ad assicurarselo in caso di fumata nera. Il lieto fine è però arrivato, a margine di una paziente ed esemplare attesa. Alfageme si è allenato tutti i giorni dimostrando una professionalità e un attaccamento alla maglia straordinari. E ora l'ex casertana si prepara a guidare l'attacco nella sfida di sabato sul campo della capolista Lanusei, per contribuire a provare a conquistare l'unico risultato utile a disposizione per riaprire il campionato. La vittoria. Al fianco di Devena, in caso di conferma del 4-2-4, o esterno d'attacco mancino nell'eventualità di adozione del 4-3-3, si vedrà l'importante adesso per i lupi e che Alfageme ci sia. Finalmente, l'unica nota stonata del pomeriggio è stata rappresentata da Morero, che si è fermato non appena iniziata le esercitazioni sul rettangolo di gioco. Il capitano ha denunciato un dolore al piede destro, si è fermato, poi ha accennato una corsa prima di accomodarsi in panchina e imboccare il tunnel degli spogliatoi. Un fastidio da monitorare, ma che non sembra essere nulla di grave.